le fonti pocket news le nostre notizie che stanno anche in tasca in modo veloce e immediato peccato che in questo caso la notizia di cui parleremo in questo spazio di approfondimento è una notizia bella grossa il problema è importante quindi mi chiedo se davvero possiamo farla entrare nella nostra tasca ma scherzi a parte da questo momento in poi attraverso proprio le fonti pocket news cercheremo di parlare delle conseguenze del covid 19 di questa seconda ondata non ne parliamo sempre in termini economici ma lo faremo approfondendo ancora di più tutti quegli aspetti legati alle restrizioni previste dai dpcm del governo e che riguardano alcuni settori in particolar modo naturalmente con le restrizioni gli stop gli orari limitati tutti ci rimettiamo chi direttamente chi indirettamente ma è in dubbio che ci siano appunto dei settori che maggiormente risentono dello stop delle attività tra questi ci sono i ristoratori i bar che come sapete con i provvedimenti contenuti nell'ultimo dpcm devono tirare giù le sarecinesche chiudere le serrande a partire dalle 18 quindi praticamente metà della giornata produttiva non esiste più di fatto è così perché soprattutto per i ristoranti è stato detto tante volte fondamentalmente si può fare solo il pranzo ecco giusto per arrivare al centro della questione e allora io saluto il mio ospite alfredo zini alfredo ben trovato peraltro sei intervenuto tante volte da noi e lo fai anche in questo caso come ristoratore anche come portavoce dei ristoratori grazie per essere qui no grazie a voi dell'invito anche per far capire alla gente a casa insomma quali sono le problematiche che non è solo del singolo imprenditore ma dietro ristorante dietro un pubblico esercizio c'è una filiera lunga e quindi i settori che ne soffriranno da questa crisi sono molti assolutamente sì questa è un po la premessa infatti io ho detto indirettamente direttamente insomma ci rimettiamo tutti volevo dare qualche numero per poi cominciare a chiacchierare con alfredo dicevamo dare la voce ai protagonisti è sempre la cosa migliore sapete anche che il nostro mood non è quello di far polemica anche se poi ogni tanto la polemica ci entra perché chiaramente ci sono delle proteste c'è rabbia anche per quello che sta succedendo però il mood è quello di trovare in qualche modo un punto di partenza che possa accumulare tutti noi dicevo qualche numero derivante da un'elaborazione della col diretti sulla base dei dati ismea in occasione proprio delle mobilitazioni che ci sono già state in piazza dei ristoratori con la fipe sulle conseguenze proprio dell'emergenza covid allora si parla naturalmente dell'impatto che è stato considerato drammatico avalanga sull'intera filiera praticamente le vendite di cibi e bevande nel settore della ristorazione sono praticamente dimezzate parliamo di un meno 48 per cento il crack della ristorazione con il crollo delle attività di bar gelaterie pasticcerie trattorie ristoranti e pizzeria effetto negativo sull'intero agroalimentare nazionale e il fatturato ha registrato questa perita di oltre 9,6 miliardi per le mancate vendite di cibo e bevande nel corso di quest'anno perché naturalmente non ci possiamo dimenticare che questa è la seconda ondata dopo la prima della primavera scorsa o comunque dall'inizio dell'anno 2020 e si parla di un drastico crollo dell'attività allora alfredo partiamo proprio da questi numeri che naturalmente insomma io io uso sempre questa espressione fanno un po' rabbrividire ripeto poi cercheremo di capire cosa si può fare nell'immediato futuro ti ritrovi in questi numeri che ha fornito la col diretti sì diciamo che sono un po' per difetto nel senso che molti prodotti sono già stati buttati via che erano stati acquistati a fine 2019 primi mesi anche del 2020 le cantine di molti pubblici esercizi hanno ancora dei prodotti che sono che sono scaduti quindi sono stati buttati via o che sono in scadenza e quindi il fatto di non poterli vendere anche in questo momento crea ulteriori danni ecco questo è anche un po' la situazione che spesso non viene evidenziata per esempio sono stati distrutti un sacco di litri di birra sembra un'assurdità ma la birra ha una scadenza e quindi se tu non puoi venderla alla fine sei costretto a buttarla via ecco questi sono un pochettino dei numeri che oggi non rientrano perché magari sono stati degli acquisti in fine 2019 inizio 2020 questa è la dimostrazione che bisogna considerare tutto non solo appunto i mancati introiti del momento legati proprio alle chiusure anticipate poi ci arriviamo naturalmente al freddo ma anche tutti quei prodotti che in questi mesi così almeno facciamo un collegamento tra i mesi trascorsi e quelli che devono ancora esserci tutti la riduzione diciamo così di attività legata proprio al movimento ridotto delle persone no che per paura o perché magari sono più in casa con lo smart working e quindi escono meno e quindi consumano meno insomma dicevo quindi tutti quei prodotti che non sono stati venduti ma che erano stati acquistati perché chiaramente sarà banale ricordarlo ma se si ha un'attività di ristorazione insomma bisogna avere in casa i prodotti altrimenti non si può restare aperti no al freddo quindi tanto spreco anche in questo senso soldi buttati via sì certo e poi c'è il fermo di magazzino che sono quei prodotti faccio un esempio su tutti il vino bianco che di solito siamo abituati a consumarlo diciamo nell'annata e noi abbiamo ancora invece nelle cantine quello del 2018 perché il 2019 non siamo riusciti ne ancora a gestirlo non pensando che abbiamo già fatto la vendemmia del 2020 e quindi siamo un po in ritardo su tutto noi abbiamo un sacco di prodotti che sarà difficile anche da vendere perché di fatto un cliente che va poi al ristorante cerca l'ultima novità come giusto che sia senza parlare dei prodotti freschi oggi siamo in un periodo straordinario questo attunno i funghi tartufi e quindi anche lì c'è un mercato fermo di produttori o di cercatori di funghi che non stanno incassando nulla perché il tartufo non si vende è una privatezza del nostro paese che però spesso e volentieri viene consumata la sera quando si è più rilassati quando si va al ristorante per passare una piacevole serata insomma parlavamo di riflessi diretti e indiretti di queste restrizioni e tra poco entreremo nel dettaglio vi do altri numeri però perché è importante confrontarsi con dei numeri ben precisi allora nell'attività di ristorazione questo secondo sempre la col diretti sono coinvolte circa 330 mila tra bar mense e ristoranti parliamo naturalmente sul territorio nazionale ma anche 70 mila industrie alimentari e 740 mila aziende agricole lungo la filiera impegnate a garantire proprio le forniture di cui parlavamo poco fa per un totale di 3,6 milioni di posti di lavoro e questi sono i numeri diretti figuriamoci se dovessimo fare la conta di tutto ciò che questo comporta cioè dei numeri indiretti alfredo ecco questi siete voi tu adesso ovviamente stai rappresentando in questo spazio i ristoratori sì questi sono i numeri come dicevi giustamente tu che fanno dell'enogastronomia il secondo pil del nostro paese e la seconda meta anche da un punto di vista turistico per il paese italia quindi è un settore fortemente in crisi in questo momento e che è sempre stato invece dall'altra parte il settore trenante per il nostro turismo perché di fatto come dicevo prima è un'attrattività importante per il nostro pil che naturalmente risentirà di questa crisi lo sta risentendo non solo per la ristorazione tradizionale o comunque del mondo del pubblico esercizio ma anche quello legato alla ricettività e anche a quello del divertimento dello svago se pensiamo sono mesi che anche il settore dei locali serali delle discoteche del ballo che erano un valore aggiunto anche per noi ristoratori perché la gente magari dopo essere stata a mangiare andavano a ballare e comunque si fermano in italia è un settore che sta risentendo a 360 gradi di queste restrizioni che da un punto di vista sanitario credimi credo che siano corrette la salute al primo posto sicuramente fermo restando che poi dovremo tutti insieme perché io credo che non sia la responsabilità solo delle amministrazioni ma gestire questo momento per cercare di reagire al più presto fermo restando che dovrà migliorare la situazione sanitaria la situazione di questa epidemia che ci sta mettendo in ginocchio non solo noi in italia naturalmente ma in europa ma anche nel resto del mondo certo noi dobbiamo però confrontarci con le decisioni no che sono state messe a punto e partiamo proprio da quella che riguarda la vostra categoria cioè queste chiusure la chiusura dell'attività a partire dalle 18 sia per bar che ristoranti mi viene da dire che ovviamente il ristorante ancora di più è penalizzato perché si taglia tutta la seconda parte della giornata con la cena fondamentalmente quindi voi lavorate al 50 per cento proprio a livello di ore adesso io la faccio molto semplice semplicistica alfredo poi naturalmente lascio la parola a te ma con tutte anche le penalità che arrivano dalla flusso minore delle persone anche a pranzo cioè perché immagino che bisogna contare anche questo allora però come consideri questa decisione perché la rabbia insomma usiamo questa parola da dove deriva la vostra protesta da dove parte da qui cioè è ingiusto chiudere e non permettervi di lavorare la sera è un ragionamento un pochettino più complesso nel senso che la gente ha iniziato a spaventarsi dopo i primi di pcm che comunque limitavano un po anche la circolazione delle persone quindi voleva dire che c'era un timore per la propria persona per la propria salute quindi è il governo ha deciso di limitare quindi dalle 23 24 a seconda dei paesi delle regioni italiane di creare delle zone coprifuoco allora da questo punto di vista però poi si lasciavano aperte alcune finestre se la salute voglio dire il bene più prezioso dopodiché si è andato a restringere quella parte fino a partire dalle 18 per la chiusura dei pubblici esercizi in generale anche qui ci sono delle attività che magari stanno viaggiando al 60 per cento 70 per cento che sono quelle dei bar tradizionali delle pasticcerie dove se magari si va a fare la colazione la mattina si fa una pausa pranzo veloce si va a bere il caffè nel poveriggio e alle 6 si chiude penalizzate naturalmente quello che può essere l'aperitivo sono ristoranti che viaggiano solo a un turno e quindi noi in italia siamo abituati che si mangia dalle 12 e mezzo massimo alle 2 perché poi si rientra in ufficio e qui primo problema il governo ha deciso che il 75 per cento dei lavoratori delle amministrazioni pubbliche stanno in lavoro agile hanno chiuso la parte dei ragazzi dai 15 anni che sono quelli che fanno attività didattica a distanza e quindi un altro problema sono stati penalizzati al 100 per cento quei locali che invece facevano le happy hour che facevano il locale serale che aprirono alle 18 e andavano avanti fino alle 2 di notte questi assolutamente sono fermi noi come ristoranti siamo con delle perdite tra l'85 e il 95 per cento pochettino seconda delle zone perché non abbiamo turisti non abbiamo clienti business allora abbiamo detto ma perché chiudete alle 18 se i nostri ristoranti i nostri luoghi sono luoghi sicuri perché ci avete detto di mettere il distanziamento ci avete dato un numero massimo di coperti e quindi all'interno dell'attività rispettando quelle che sono il distanziamento sociale ci avete fatto comprare alcuni accorgimenti per garantire allo stesso tavolo il distanziamento sono stati fatti degli investimenti importanti dall'altra parte abbiamo fatto tutto questo sono luoghi sicuri un po come le scuole e poi i contagi dentro le nostre attività non ci sono avvengono fuori perché magari sui mezzi pubblici in altri luoghi di affollamento di assembramento il virus passa allora non era meglio affrontare questa situazione chiudendo tutto alle ore 18 perché questo è il tema la gente non va in giro e non non va in giro nessuna parte mentre invece così si lasciano delle ore di libera circolazione dalle 18 alle 23 dove la gente si può ritrovare in parchi giardini in piazze a festeggiare con una pizza con una birra con degli alcolici creando assembramenti anche perché se gli alcolici non si possono più vendere le 18 ma uno se li compra prima e può andare nel parco a bersela la birra che non vengono che non che non viene consumata da voi infatti alfredo poi ti faccio continuare ti stavo proprio dicendo a fronte anche di spese che voi avete sostenuto per mettere a norma i locali insomma per evitare che il contagio potesse essere più 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 immediato cioè i gel distanziamento la sanificazione che insomma anche quando le attività avevano ripreso si era fatto un po il conto no delle delle spese che i singoli imprenditori avevano dovuto sostenere questo non possiamo dimenticarcelo uno di quei costi aggiuntivi e quindi per per far stare le persone serene per poter vivere questi luoghi in maniera tranquilla per poter uscire con tutta la serenità come stare a casa propria e questo è venuto meno ecco perché è l'altro aspetto fondamentale è quello della poca chiarezza delle amministrazioni in generale si fanno molteplici provvedimenti a distanza di poche ore di da parte del governo con il pcm da parte delle regioni con delle ordinanze o dei comuni cambiano anche a volte quelli che sono gli orari perché tu hai ricordato adesso giustamente le 18 della vendita di aico dopodiché si è spostata alle 19 e 30 con un'ordinanza fatta 12 ore dopo la prima ordinanza perché naturalmente certo ma com'è possibile che uno va poi alle 6 non può comprare più una bottiglia di vino e quindi è diventato anche qui una giungla della burocrazia no cioè tutti non sappiamo alla fine cosa fare non ci sono regole certe allora in un paio di minuti proprio alfredo cerchiamo di guardare al futuro che cosa chiedete soprattutto come valuti i provvedimenti messi a punto nel decreto ristori ma guarda il decreto ristori sicuramente aiuta è una boccata di ossigeno che per alcuni avrà effetto per altri questa boccata di ossigeno non servirà a nulla o servirà a pochissimo ti faccio un esempio semplicissimo se un ristorante che la prima fase di lockdown ha avuto 2000 euro questa volta ne riceverà 3000 ma fermo restando che tutte le scadenze tutti i tributi sono stati messi in conto e sono stati iniziati a pagare dal 16 settembre quindi riceverò 3000 euro ma che mi serviranno a coprire probabilmente le rate che io ho accantonato perché non sono state annullate ti dirò di più se uno ha avuto la fortuna di avere un direttore di banca bravo che gli ha dato la possibilità di sforare sul suo conto corrente potrebbe essere che questi soldi che gli arrivano vengano tra virgolette messi a saldo e quindi non aver più la possibilità neanche di sforare su quel conto corrente perché magari negli ultimi settimane gli incassi sono pari a zero quindi la banca non vuole rischiare allora forse era meglio pensare a un azzeramento o comunque una riduzione del carico fiscale da parte dell'imprenditore e dar la possibilità dei soldi della liquidità che un imprenditore può incassare in queste settimane per poter gestire gli altri pagamenti te la dico in maniera semplice se oggi lo stato mi dà 3000 euro e siamo al 15 di novembre il 16 novembre devo riversare questi 3000 euro allo stato per pagare quello che avevo accantonato prima ecco forse bisogna ragionare anche in termini di media lunga scadenza siamo nelle vicinanze del natale siamo vicini all'anno 2021 e non si vede un futuro per le imprese perché a livello strutturale non è stato ancora fatto nulla e non ci sono provvedimenti che possono guardare anche una ripresa del 2021 ma infatti figuriamoci in prospettiva del mese centrale dell'anno a livello dei consumi cioè quello di dicembre il mese del natale come ricordato giustamente tu e senza considerare se dovessero esserci ulteriori lockdown o chiusure però alfredo di questo direi di parlarne magari appunto quando si avvicinerà al periodo natalizio senza anticipare nulla sperando che per citare il nome del nostro programma pocket news tutte queste problematiche potremmo archiviarle in una tasca e chiuderla in modo definitivo speriamo ma ci risentiamo presto se sei d'accordo per portare avanti un po' questa nostra denuncia tra virgolette in modo costruttivo delle problematiche proprio sorte sorte con le restrizioni delle norme per le norme anti covid insomma quindi ci diamo appuntamento a tra qualche settimana alfredo va bene va bene io sono ottimista voglio vedere sempre il bicchiere mezzo pieno per rimanere in tema di ristorazione dobbiamo lavorare tutti perché possiamo uscire tranquillamente a questo periodo un po' difficoltoso per tutti perché non è poi solo la filiera della ristorazione ma di tutti i cittadini italiani che insomma stanno facendo grandi sacrifici e quindi un po' di meritato riposo e meritato voglio dire anche una prospettiva di poter festeggiare questa la vedo sicuramente in maniera positiva col bicchiere pieno cosa che invece adesso non può venire dopo le 18 insomma tanto per chiudere con un sorriso un po' amaro ma di buon auspicio mettiamola così grazie alfredo per averti fatto insomma per averti per essere diventato ancora una volta il portavoce della tua categoria e ci sentiamo presto grazie grazie a voi grazie grazie a tutti voi per averci seguiti continueranno questi approfondimenti proprio per questa emergenza covid e per l'economia del nostro paese questo è pocket news alla prossima